Benvenuti ragazzi, benvenuti in questo nuovo Brutta notizia Oggi attacchiamo Brutta notizia Ma bruttissima Solo queste In tutto Ma stasera Compreremo altre Dai Allora, attacchiamo Empoli con Aslani Perché è da tantissimo che noi le compriamo Sono carico Per vedere Ronaldo Atacchiamo Aslani Dell'Empoli La 97 Comunque è da tanto Non le facciamo vedere così Poi E ci dà le buone Frosinone L'Ascoli ci manca una E la completiamo Ora vado a vedere Vado a vedere Per se C'è la Stemma Allora, purtroppo sono sei che dobbiamo attaccare Quindi Mi dispiace Però le stiamo finendo Per oggi abbiamo finito il video dell'attaccamento L'11 maggio L'11 maggio? Domani Sì Andremo Andremo Ma Faremo la live reaction Oggi Domani Avatar dello Spezia Adidas Oggi faremo il pronostico Oggi faremo il pronostico Domani faremo la live reaction Forse Guarda se lo attacchiamo Io non ho voglia di Guardate Sono simili Quello della spezia Sì, lo so Un po' mi confetto Io non ho voglia di fare il pronostico Perché so che perdiamo Ok Spero l'avete visto Io non ho visto niente Ecco qua Gasperini con la Numero 10 L'attaccamento Sempre Guardate che bella visuale Ragazzi Questa è la visuale Più bella del mondo Siamo già Solo a due minuti Oh mio Dio Il numero 10 Gasperini Sapete perché L'adalanza è prima Sempre Perché Vanno per ordine D'alfabeto E infatti Ma no Sai staccare Vanno A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S Alcune le saltano perché non sono Se non c'è la Ju Oh mio Dio Quando passiamo la Lazio Vedo quella pagina 39 Che non me la scordo mai E vedo 39 Mizzica Mizzica Non me la scordo mai Non me la scordo mai La prima Lozano La prima Di queste pagine 49 Ragazzi la prima Non l'abbiamo manco attaccato Una di 49 Bossa Le devo far vedere Io ti caccio Ah se io lo devo vedere Devo far vedere Io ti caccio Le video Comunque ragazzi La video Ah sparisco Sì Ma ti Allora Per poi Per penitenza Mamma mia Non me la scordo mai Sta pagina Manca il numero Manca il numero Ora mi scrivo Là al muro Con un post-it Che è pieno di post-it Là al muro 1, 2, 3, 4, 3, 6, 6, 6 post-it Nooo No 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 Per penitenza Allora Tacco io No Ma che ho fatto No che Stai bisogno del metro Oh che problema Allora Figurina 200 200 Vidal Benissimo Ma quanto sono bruvo Una e basta Per aggiungere sette L'ex Inter Che ha segnato in Inter Empoli Andrea Inamanti Che ha vinto solo uno scudetto Poverino Con l'Inter Poverino Intanto che lui attacca Non lo poteva vincere con la Juve Finisce quel video No 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 Non chiudi Adesso con un'altra No Che sto dicendo Anche Devo dire Che The Album Mi piaceva Più Questo qui Indovinate perché Non potete indovinare mai Quindi Quello sì Mi piaceva Sia perché Le figurine Erano Verticali Quindi guardate Quindi guardate Che figata che era E invece Questo qui Che sono orizzontali Così Vabbè Non mi piace Come il bar Perché fa schifo Fa schifo così Ma invece Un'altra cosa Che mi piace Questo qui vecchio Del non mi ricordo E questo qui Che qui Invece di andare A cercare Come qua E Vabbè E dire Dove sono le coppe Quante coppe hanno vinto Quante cose hanno vinto Quante Eh Quante champion Hanno vinto Quanto Qua In quello vecchio Quanti gol Quanti gol Hanno segnato Potevi Quanti gol Hanno segnato Una cosa Una cosa da calla No 76 stagioni C'è scritto Partite 2534 Partite Ready 3341 Invece Invece in quello nuovo Dove Dove Chi boe Quante cose hanno segnato Quante cacchette C'è pure questo E infatti Un'altra cosa Un'altra cosa Comunque sono tutto Brutto Non è vero Devo dire Che Se andiamo al Napoli Scusa Se andiamo al Napoli Ecco Ci sono Ci sono le mani Vediamo Maradona Vediamo Maradona Vediamo chi è questo Guardate Sì vabbò Che cose vi sto facendo Vabbò Sì vabbò Vabbè Raga Va bene C'è Maradona Basta Vabbò Vi sto facendo vedere nulla Raga Non lo Non ce l'ho Andate a vederlo Nel vostro E come lo vedete Ecco La Maria Jephtv Out Aspetta Ma tocca un'altra Non lo Non lo Non lo